...di questo oggetto, 2,20 m per un metro, 1.680.000 e anche qui lo potrete pagare tranquillamente a rate. E poi per concludere vorrei ritornare sulla pelletteria che mi dicono che già in questo momento abbiamo tantissime persone che ci stanno chiamando. Bene, io farò di tutto per accontentare tutte voi. Quindi approfittatene, guardate bene questo lotto di pelletteria perché secondo me merita. Abbiamo inserito una pochette in cobra, abbiamo inserito un portafoglio in cobra, un portachiave in cobra, un portafoglio per uomo stupendo in cobra in un unico pezzo. Guardate, ogni oggetto è scatolato ed ha certificato di garanzia. E poi infine riguardiamo un attimo questa cintura perché è fantastica. Vedete che è prodotta con l'animalino intero, completamente intero, senza cuciture. Guardate che bellezza, è un sogno, con la fibbia bagno oro. Bene, tutto il lotto lo abbiamo regalato perché a questo punto proporre, non è la parola giusta, 153.000. Pensate, con 153.000 lire voi dovreste pagare soltanto il portafoglio. Vi diamo 6 oggetti. E poi per concludere vogliamo andare su questa borsa che forse non l'abbiamo spiegato ampiamente. È tutta completamente in cobra, davanti, dietro, i fianchi, la tracolla, tre bellissimi scomparti. Alla maniglia regolabile si può portare a tracolla oppure anche a maniglia come vedete. Ha un certificato di garanzia, ci vogliono 4 animalini per produrla. Tutti gli attacchi, le fibbie e le cerniere sono in ottone bagno oro. Facciamo una scommessa, se trovate una borsa così che costi meno di 400.000, non ve la possiamo regalare. Oggi la vogliamo offrire a 190.000 lire. La potete avere in marrone, in nero e in testa di moro. Bene, carissimi amici, io credo proprio di avervi ancora una volta, io e amiche naturalmente, sono le donne che guardano spesso questo nostro programma. Spero di avervi accontentato in questo periodo che dovrebbe essere il periodo delle vacanze, il periodo giusto anche per portare a spasso queste belle cose. Immaginate un bel pantalone bianco con una bella cintura in copra. E poi fate un regalino ogni tanto a vostro marito, non pensate sempre alle cose che vi interessano. Questo lotto di penetterie vi consentirà di dare un bel regalo a vostro marito, che è la cintura e il portafoglio, e di tenere per voi la borsa. Bene, il mio spazio termina qui, io come sempre vi do un bacione, vi dico chiamate, 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 perché avrete la possibilità di capirne di più, avrete la possibilità di vedere i quadri ad esempio a casa, vi li porteremo a domicilio con un bel furgoncino. Quindi potrete toccare da vicino la qualità dei nostri oggetti. Ciao! Ciao!